Musica Buongiorno a tutti, siamo a Chateau Frisè nella nostra casa di riposo dove Giulia sta seriamente pensando alla proposta che le ha fatto sua figlia Bethany e la nipotina Isabel e cioè quella di essere trasformata in vampiro prima di morire Allora, altre scelte apri visto che hai fame, bella gioia mia e mangiati una porzione Perché tesoro? Perché ci va la maggiordoma? Ok Anche Riegel è affamata, allora intanto dai da mangiare a Riegel, porra stellina Riempi e chiama Riegel Poi prenditi la porzione Che la maggiordoma ti ha impedito di prendere Prendi una porzione Madison è qui E cos'ha che non va? Non le piace la torta Chissà perché si ostinano a mangiarla se non gli piace a loro E anche questa se è magnata la torta di frutto è disturbata Mandiamo Lorenzo a fare una passeggiata Lorenzo sta bene, non ha fame Nel solo poverino Ma insomma E Riegel ha finito di mangiare gioia Riegel Amore Vai a fare una passeggiata col tuo Riegel Vai, allora Spazzolalo Spazzolala È una femmina Perché? Che c'ha Riegel? Ha bisogno di coccole Poverina No Incoraggia il cattivo comportamento No Dai Dovrebbe fargli un bel bagno E fai un bagno Perché non spazzoli Non fai un bagno Dai E su E Giulia Ha deciso di invitare Betany Per parlarne Adesso la mandiamo a nanna Mandiamo a nanna tutti E domani Dormi E domani Invitiamo Betany Certo che hanno sonno alle 6.23 della mattina Andiamo bene Ok Adesso Fai due coccole a Riegel Che è bello pulita Bella Pulita Gioca E Dai un dolcetto E poi Questa è vestita No Voglio che le cambi il vestito Non mi piacciono gli animali vestiti Che glielo Era per il matrimonio di Madeline Però non c'è altre scelte Cambia abito Boh Quel simo animale isolato Ordino al tuo animale Di rallegrarlo Ah che carina sta cosa Usa interazioni amichevoli No niente E' quella che avevo fatto con Violet E' arrivata la liquidazione del pensionamento di Lorenzo E' 573 Culturista celebre nella carriera culturista E' arrivata la liquidazione del pensionamento di Madison Insomma qui arrivano un sacco di soldi ragazzi 267 Che diviso 4 Fanno 50.000 simoleon Che la nostra Giulia porterà con sé Quando andrà a vivere con Bethany Aspettiamo che si sveglino E organizziamo un pranzo Una cena Qualcosa con Bethany Perché Giulia vuole proprio parlarne con lei Ok si stanno svegliando praticamente tutti Tutti facciamo Lui fa una passeggiata con Riegel Lei la svegliamo Perché stanno dormendo di giorno questi E non va mica bene E adesso Giulia invita nel lotto attuale Sua figlia e sua nipote Bethany E dovrebbe esserci anche Isabel L'avete visto che ha conosciuto Isabel vero? Invece non risulta fra le sue amicizie Ah guarda che strano E' una cosa stranissima proprio Veramente Vediamo se c'è qui Isabel c'è lo vedi? Ma In vita nell'otto attuale anche Isabel Ecco Bethany arriverà molto presto Adesso lei parlerà con Bethany E le chiederà più informazioni sulla vita da vampira Allora Intanto rivela l'invenzione brillante Dile sai Tutto sommato Ci sto pensando molto seriamente Ma se io mi faccio trasformare in vampira Riacquisto anche il mio aspetto giovanile E Bethany le dice Certo Ridiventi giovane Perché sarai eternamente Giovane E poi le chiede No condividi Sì lei la condivide La conoscenza del vampirismo Perché anche lei Come potete vedere Aveva letto tutti i volumi sul vampirismo Perché quando ha avuto una figlia vampira Ha voluto informarsi Su cosa comportasse avere un figlio vampiro Perché se ne va Bethany Abbraccia affettuosamente Dov'è andata Bethany? Ma perché se ne è andata Bethany? Ma ok Bethany Invitala di nuovo nel Nell'otto Chiacchiera no? Allora dove è finita Bethany? Infanzia E' felice Un ottimo rapporto C'è scritto Un ottimo rapporto Con un genitore rilassato Per cui Dai Dov'è Bethany? Se non la puoi invitare Vuol dire Che è qui nei dintorni Magari è andata giù No Qui devo ancora sistemargli il sotto Bethany Eccola Ma inizica come corre veloce Vai da Bethany Su Dai consigli familiari Visto che sei stata un'ottima madre Altre scelte Altre scelte Amichevole Vediamo se c'è Intanto chiedi di essere trasformata in vampiro E poi Le vediamo Chiedi di vedere l'abito Complimentati l'abito Chiedi dei progetti futuri Dove siete? Qua E poi Non c'è ovviamente Chiedi della sua giornata Poi Esprimi ammirazione Come per dire Sai mi hai quasi convinto Entusiasmati per i vampiri Ma veramente avremmo la vita eterna Lo sai mamma Hai letto tutta la Dibatti sull'esistenza no Hai letto tutti i volumi E lo sai benissimo Che noi siamo Eterne Però Non c'è Assolutamente Chiedi Si Chiedi di trasformarti in vampiro Signori Stiamo per assistere Alla trasformazione di Giulia in vampiro Che così diventerà anche la prole di Bethany Cioè la mamma di Bethany Diventerà la prole di Bethany Eccola lì Ha chiesto di essere trasformata in vampiro E si lascia trasformare in vampiro E poi aspetteremo il momento in cui si trasforma in vampiro Ringraziala Amichevole Ringrazia Abbraccia affettuosamente Come dire Grazie di avermi trasformato in vampiro E basta Perché questa se ne va via E poi E poi Così vediamo anche tutto il progetto di No chiedi di convivere No Condividi di nuovo la conoscenza del vampirismo Ma mi sa che questa se ne è proprio andata Bethany corre come un treno E adesso aspetteremo Che Giulia Venga Eccola qua Bethany Venga trasformata in vampiro Nel video Dove vi ho fatto la domanda Non mi avete risposto Per cui ho scelto io Di trasformare Giulia in vampiro Così avremo anche Giulia Eternamente vicina a sua figlia E ai suoi nipotini E appena Sarà trasformata Racconta una storia Convolgente Ecco che Ma già si trasforma Come no Gliel'hai chiesto tu Di essere trasformata in vampira Ora devo proprio andare Ma dov'è la tua nipotina Era venuta Oh oh Questo c'ha proprio sonno Sei andato a far la passeggiata con Riegel Dormi va Ok Qualcun altro ha qualche esigenza particolare No Lei sta benissimo Madison Allora rallegra un pochino l'ambiente E noi aspettiamo Suona un concerto E lei perché è attesa Presenza criminale Ma dai È tua figlia Sciocca che sei Sciocchina Allora Acquista un pesce Acquistiamo Una tetra E acquista un altro pesce Una pecilia Vediamoli Come sono belli Wow Bella la tetra È quella che si pesca Nel nuovo scenario Nella giungla E acquista un altro pesce Un'altra pecilia Sono proprio belline le pecilie Ok Adesso guardati un po' di tv E non essere arrabbiata Perché gliel'hai chiesto tu a tua figlia Adesso guarda la tv Ok E qui Li lasciamo Lei è andata a lavorare Con la vescica Lui Ti ho detto di andare a dormire Madonna Si è impallato Ah perché Non c'è ancora L'opzione passeggiata Vabbè Ok Perfetto Perché lei sta male O chiedigli cosa c'è che non Chiedile cosa c'è che non va Dov'è il problema Amichevole Dov'è Incoraggia ad accoppiarsi con chi Gustavo Ah 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 Dai con Apollo Viene fuori Viene fuori una roba Lei c'ha mal di pancia Poverina Vedi C'ha mal di pancia Perché deve O segui figlia Il mio antico plasma Percepisce che sei stata appena trasformata Ci vorrà qualche giorno Per diventare una vampira vera e propria Ma non temere La notte è paziente Ok Per diventare vampiro Ci vuole qualche giorno Wow Questo è venuto fuori Forse perché L'ha chiesto lei Di essere trasformata in vampira Interessante Su incoraggiala Forza incoraggiala Altre scelte Altre scelte Amichevole Incoraggia ad accoppiarsi con Apollo Forza Forza Dai Voglio vedere i cuccioli di righele Apollo Dai che il gesto è abbastanza eloquente Vai da Apollo Su Dov'è Apollo Fra l'altro Fra l'altro E non c'è Ma cosa mi dicono allora Se Apollo non c'è Ma Va bene Che dite Aspettiamo che sia Trasformata In vampira Appena vedo i primi segnali No ma lei Porra Stella C'ha una fame Pazzesca Griglia Qualcosina Dai Griglia Una bella bistecca Griglia bistecca Forza Certo lascerà questa casa Che è magnifica Ancora ti scappa la pipì Goditi i tuoi ultimi pasti da umana Perché poi si potrai mangiarli ancora Finché non ti do Ma lei non le faccio far la carriera di vampira Le regalo il vampirismo solo per darle l'eternità E lo so gioia C'hai mal di pancia Fa male diventare vampiri C'è mal di pancina Cos'è che vuoi fare? Giocare a bigliardino E gioca a freccette Va bene Poi dopo quando si sveglia Lorenzo Ti faccio giocare Dai pigliati sta bistecca Su Prendi una porzione Ma per caso io c'ho ancora l'autonomia tolta Perché l'altro giorno ho dovuto fare delle No Autonomia totale Ho dovuto fare delle foto Per le gare di agility I tre giudici dovevo farli stare fermi lì Se no si alzavano in continuazione E poi però glielo ho rimessa l'autonomia Allora Riegel ti sei accoppiata con Con Apollo o no? Forse si Oh non abbiamo seguito Riegel Magari Apollo era qua Ma sì perché l'ingresso di casa in realtà è questo qui Io ho messo tutto rivolto verso il mare perché è una meraviglia La posizione di questa casa è veramente una meraviglia Abbiamo regalato l'eternità a Giulia ragazzi Ma sì Tu non hai fame Dai un pezzettino ad Apollo Dai Dai un po' di cibo ad Apollo Dai del cibo a Riegel Un pezzettino di bistecca Allora non ti sei accoppiata Riegel Eh se sei ancora lì Altre scelte amichevole Eh non c'è più Incoraggia Eh beh Riegel se ti perdi l'occasione Non so io eh Mi dispiace ma Ecco che ha mangiato il cibo Come se fosse spazzatura Poverina Sta facendo i videogiochi Lui Dove va? Eh io devo sistemare sta taverna E Riegel È bella tranquillotta E lui adora far ginnastica Guarda che però puoi morire Poi per fatica eh Perciò non ti stai Stai già sudando Guarda lì Basta Basta no Tu devi fare jogging Piuttosto Se hai voglia di fare movimento Porta lei a fare jogging Vai a fare jogging C'era qua Uffa Incoraggia ad accoppiarsi Con no Con Gustavo Ma come viene fuori Un cucciolo fra lei e Gustavo Sono proprio curiosa di vederlo Dai Incoraggia ad accoppiarsi Ahi c'è Gustavo qua Vai Forza Riegel Accoppiati con Gustavo amore Su Perché non ti ci accoppi con Gustavo Seguiamola stavolta Vediamo Eh Dice lui C'è qui un bel Gustavo Con le orecchie Tutte ricciole Vediamo cosa viene fuori Vediamo se sta andando da Gustavo Forse prima con Apollo Non era andata d'accordo Vediamo un po' Dai Cerca Gustavo Cerca Cerca Riegel Cerca Gustavo Cerca amore Cerca Vediamo Vediamo se trova Gustavo Mizzica dovrà fare chilometri per trovare Gustavo Magari poi non si intendono Ma che bello che è sto posto però E dov'è sto Gustavo? Vediamola Eccolo qua E vai da Gustavo Dov'è Gustavo? Chi è questo qua? E' rosi Ma non c'è Gustavo Santo cielo Vieni a fare jogging Allora Incoraggia ad accoppiarsi con Gustavo Su Ti eri e chi è già fermata? Ti eri già fermata a metà strada Dov'è Gustavo? Eccolo Eccolo Forse eccolo No Questa è blu Come al sol Eccolo lì Gustavo Seduto di schiena Vediamo se vanno d'accordo Oddio che cuccioli verranno fuori Mamma mia non ne ho proprio un'idea un miscellaneo se se la intendono vediamo, no, non si piacciono non si piacciono perché? dai ti prego accoppiati niente, non c'è niente da fare Riegel si è accoppiata? ah, boh anche un'altra volta me l'ha detto ma tu c'hai sonno vai a casa, su ecco brava e tu vai, sei già andata a letto Madison è tornata certo, la piscina gliela potrei costruire anche qui, è in effetti c'è tanto di quello spazio qua che in effetti potrebbero anche avere una piscina aspettiamo questa trasformazione ecco un avviso che non avevo mai visto disgustato dal cibo per uno stomaco terribile tutto questo cibo ha un sapore terribile che succede? non è di sicuro un buon segno perde l'appetito tra quindi probabilmente perché si sta trasformando in vampira e quindi il cibo umano comincia già a non piacerle più Madison è furente perché ha aggiunto del cibo nella nella cosa dell'uccelliera e ne sono venuti tutti addosso un attacco proprio quegli animali pennuti hanno reso Madison davvero furente e comunque la nostra Giulia è ancora qui che non si è trasformata aspettiamo e comunque anche Anna dovrà essere trasformata perché ragazzi Giulia e Anna non si sono mai separate in tutta la loro vita sono le due sorelle minori della mia Silia e hanno sempre vissuto insieme da piccole da adolescenti da adulte nella casa del sale Anna è stata una zia affettuosa per Bethany per cui anche lei chiederà non posso pensare che Giulia perda sua sorella solo che non andrà a vivere a Forgottenollo perché sono già in sette e ci potrà andare a vivere solo Giulia brava Giulia concentrati Cassandra ehi Giulia dalla città ma se non mi fate in tempo no dobbiamo aspettare che si trasformi in vampira non possiamo Cassandra insomma anche Lorenzo ha sbloccato un tomo sui vampiri perché da quando ha saputo che lei vuole diventare vampira vuole capire cosa succederà a sua zia cioè la zia acquisita perché comunque lei è la zia di Madison perciò stanno parlando un po' di questa cosa e si stanno dicendo ma tu ti faresti trasformare Lorenzo lui dice assolutamente no per me la vita è preziosa così com'è dice ti capisco io ho un mal di pancia da ieri che chissà boh vedremo io spero tanto se no al limite mi faccio fare la pozione da Bethany per tornare umana se proprio non mi piace essere una vampira e tornerò qui da voi è bravo far Lorenzo sì forse è meglio io non mi farei mai trasformare in vampiro e non vorrei mai che mia moglie Madison si trasformasse in vampiro intanto Anna è andata in giro con la cagnolona vediamo se incontriamo qualcuno con cui possa accoppiarsi Riegel perché per ora non è andata d'accordo con nessuno però qua mi dicono che è stata accoppiata solo che boh vediamo se c'è qualcuno con cui farla accoppiare ordine di addestramento amichevole impara a conoscere no forse no non c'è nessuno in giro o se è veramente accoppiata allora Crisantemo Silvestre wow a Brindleton Beach è il Crisantemo Silvestre rimaniamo in attesa della trasformazione di Giulia ci siamo quasi ha perso l'appetito niente riempie più questo stomaco vuoto per l'umanità in in declino avrà sete tra e qui il sapore è terribile lo stomaco non è troppo in buono stato quindi avrà sete fra poco ragazzi ci siamo quasi ci siamo proprio quasi e non voglio perdermela la trasformazione è stata graduale la prima volta che seguo una trasformazione di una persona e non voglio perdermela tutte queste piccole cose l'umanità in declino lo stomaco che perde la sete arriverà tra non le avevo mai viste e mi fa piacere vederle solo che sta soffrendo povera Giulia e questo mi dispiace un po' perché evidentemente è un processo abbastanza doloroso ma aspettiamo appena appena dai primi segni di trasformazione ve la faccio vedere tanto abbiamo Anna che nell'attesa si diletta col ballo della plumboba ed è bravissima perché lei ha diecina in forma fisica come potete vedere forma fisica 10 cucina 10 cottura al forno 10 ballo 10 alta cucina 10 non possiamo far morire una donna così non possiamo deve diventare un vampiro anche lei guardate che gagliarda e la maggiordoma col suo gesto di polvere che righe l'abbia fame adesso è proprio infuocato l'amore di righe mizzica vediamo se puoi incoraggiarla ad accoppiarsi con qualcuno ma che chiedi di andare a fare i suoi bisogni e aspettiamo ancora la nostra Giulia che non si decide a diventare vampira dunque il terzo giorno vediamo se accade Giulia ha una fame nera però ogni cosa che mangia non le va c'è sempre lo stomaco in disordine la sorella Anna è stata provvida le ha ordinato già delle sacche di plasma e le ha messe nel suo inventario dice almeno appena mia sorella si trasforma c'ha subito qualcosa da bere e vediamo se Giulia nel frattempo riesce a mangiare o se sempre più disgustata eccola 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 qua eh ma è rimasta anziana abbraccia tua sorella oh diglielo diglielo come presentazione ah perché ma giordomo cosa c'entra non conosce più sua sorella non ci posso credere ma si ma ma che cavolo di discorso è ah ok e l'ho dallo stile di vita vampiresco Anna si dille sono felice per te rivela un segreto ricondito dille guarda probabilmente vorrò essere anch'io come te perché non voglio che ci lasciamo mai abbiamo vissuto tutta la vita insieme ho visto anche il mostro di Loch Ness una volta e c'eri anche tu perché noi siamo sempre state insieme e voglio che tu continui a stare per sempre insieme a me e io continuo a stare per sempre insieme a te vediamo se per caso può chiedere a lei di essere chiedi della storia dei vampiri e lei negherà ovviamente amichevole conservo i miei volumi con estrema cura dovrai andare online a ordinare i tuoi caspiterina eccolo qua chiedi di trasformarti in vampiro perciò anche Anna adesso verrà trasformata in vampiro ma questa è tutta un'altra storia adesso sappiamo che Giulia è un vampiro e non ha neanche tutta stasse mi dispiace Anna non ho il potere di trasformare gli altri oh povera Anna devi chiedere a Bethany Anna anche tu prima che tu muoia adesso andrete insieme a casa di Bethany e anche tu ti farai trasformare in vampiro io vi saluto e ditemi cosa ne pensate abbiamo due vampire in più con Anna che però continuerà a vivere qui se mai deciderà ancora di farsi trasformare in vampiro e Giulia che andrà a vivere con sua figlia Bethany guardate già non cammina più gobba niente praticamente è ridiventata giovane vediamo vai qui se ci va gobba da vecchietta o se ci va gaiarda guardatela no ci va da vecchietta un po' meno però va bene ragazzi io vi saluto spero che vi sia piaciuto questo risvolto e ci vediamo la prossima volta ciao a tutti